Più controlli e maggiore attenzione da parte del Comando di Polizia Municipale per prevenire incidenti stradali in città e far rispettare il codice della strada agli automobilisti. In alcune strade, infatti, è già attivo da martedì scorso e lo sarà sino alle 29 di questo mese, l'AutoVelox, una postazione mobile di rilevamento elettronico per gli automobilisti che superano i limiti di velocità previsti dal codice della strada. Le vie in cui saranno presenti i rilevatori di velocità, accanto alla presenza dei vigili urbani che intensificheranno i controlli in città, sono Via Luigi Monaco, Via Due Fontane, Via Lestefano Candura, Via Ghetano Costa, arterie stradali piuttosto trafficate dove molti automobilisti procedono a velocità piuttosto elevata. Previste delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità di non oltre 10 km orari, con una somma da 41 a 168 euro, mentre per chi supera il limite di oltre i 10 km orari sarà sanzionato con una contravvenzione che va da 168 a 674 euro e tre punti in meno dalla patente. Rischia la sospensione della patente guida da 3 a 6 mesi chi invece supera di 40 km orari ma non oltre i 60 km orari i limiti massimi di velocità, con una sanzione da 527 a 2108 euro. Per chi supera invece di 60 km orari il limite massimo di velocità dovrà pagare una multa da 821 a 3.287 euro, oltre a 10 punti in meno dalla patente, così come la sospensione dalla guida da 6 a 12 mesi. Se queste infrazioni vengono commesse in orario notturno, vale a dire dopo le 22 e prima delle 7, sarà previsto un aumento di un terzo delle sanzioni. Se invece a commettere l'infrazione è un possessore di patente da meno di 3 anni, la sanzione verrà raddoppiata.